buongiorno ragazzi e benvenuti nel mio canale allenamento amatoriale di raffaele sport questo video dedicato a tutte le persone che dicono che i diamanti di volto non copano in purezza guardate questo maschietto come copa bene devo sperare le uova ma non me lo lascia fare guardate che bellezza guardate ragazzi come fanno a dire che gli animali non copano in purezza io farei estinguere le balee ovviamente e sono assolutamente contrario a chi fa allevamento solo ed esclusivamente per guadagnare soldi perché le uova di queste di questi vedete le avrei potute baleare e invece no io non so date ragazzi il video vi è piaciuto mettete mi piace iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video ciao ciao